Buonasera a tutte e a tutti, un cordiale saluto da Courmayeur. Sono Roberto Ruffier e sono il presidente dell'Osservatorio sul Sistema Montagna, Laurent Ferretti della Fondazione Courmayeur. A nome della Fondazione vi do il benvenuto a questo incontro online per la presentazione del decimo numero della rivista Arcaico. In questo momento, come potete vedere, mi trovo all'interno della biblioteca della Fondazione e permettetemi alcune parole sulla nostra biblioteca. Come molti di voi sapranno, la sede della Fondazione si trova nel centro di Courmayeur all'interno del complesso dell'Ex Hotel Large. In questo complesso è stato recentemente avviato il progetto Courmayeur Climate Hub, finanziato nell'ambito del PNRR, che prevede il restauro del salone dell'Ex Hotel Large con il recupero degli affreschi ottocenteschi. Forse ecco, questa è la slide con la nostra biblioteca. Vi dicevo, questo progetto prevede il restauro del salone con il recupero degli affreschi ottocenteschi e la creazione di un hub, di un laboratorio, di un luogo fisico che dovrebbe accompagnare lo sviluppo di Courmayeur nel corso dei prossimi anni. Tra gli interventi previsti nel progetto vi è lo sviluppo di una biblioteca digitale dedicata ai temi della montagna, che vuole un po' completare la biblioteca che è già esistente e nella quale mi trovo, che è costituita da circa 3100 volumi. Questi volumi sono frutto di due importanti donazioni di cui la fondazione ha beneficiato e provengono dalle collezioni di due importanti studiosi valdostani. Loran Ferretti, la cui famiglia ha donato un fondo specializzato sui temi del turismo di montagna e l'architetto Giuseppe Nebbia, che ha donato un fondo specializzato sull'architettura di montagna. Come fondazione stiamo completando una apposita piattaforma che ospiterà questa biblioteca digitale e che sarà consultabile online, quindi da computer, da tablet, da smartphone e che quindi sarà raggiungibile anche da remoto. Noi intendiamo creare una biblioteca digitale che possa integrare testi, audio, video con un unico output nei confronti degli utenti, all'interno di quella che abbiamo definito una digital library integrata. L'inaugurazione, come potete vedere, l'inaugurazione della biblioteca delle montagne è prevista per il 28 dicembre, qua a Courmayeur, e la consultazione online sarà possibile da inizio gennaio. In questo ambito stiamo sviluppando una nuova serie dei quaderni della fondazione. Li abbiamo chiamati i quaderni digitali perché saranno dei quaderni espressamente pensati per la fruizione digitale. Tanto per intenderci non saranno dei testi cartacei che vengono digitalizzati nel formato pdf, ma saranno dei veri contenuti pensati espressamente per il digitale. I primi quaderni riguarderanno l'architettura di montagna e in particolare nel mese di gennaio verrà pubblicato il primo volume L'Atlante digitale del patrimonio edilizio abbandonato della Valle d'Aosta. Questa è una ricerca che abbiamo sviluppato dal 2021 in collaborazione con il Politecnico di Torino nell'ambito di un progetto più ampio che riguarda la rigenerazione del patrimonio valdostano sottutilizzato, sempre in collaborazione con Roberto Di. Vi segnalo anche due incontri di architettura della fondazione che proseguiranno nei prossimi mesi e più precisamente il 30 novembre ad Aosta si terrà un incontro su pedagogia architettura nel quale verrà esposto il caso della colonia Olivetti di Brisson e il primo dicembre, sempre ad Aosta, ci sarà un convegno del ciclo ritorno alle Alpi, il ciclo triennale che abbiamo promosso in collaborazione con Marco Mulazzani e Francesca Chiori. Questo convegno avrà il titolo i modi del tempo libero per indagare un po' tutte le strutture che ruotano attorno alle attività del tempo libero. Ritornando alla rivista, oggi festeggiamo i dieci numeri della nuova serie e noi li abbiamo seguiti, numero dopo numero, direi passo dopo passo, nell'ambito di quella collaborazione che dura ormai da molti anni tra lo IAM, l'Istituto di Architettura Montana del Politecnico di Torino, e la Fondazione. E direi che nel percorso che abbiamo fatto insieme si è sempre più rafforzata una nostra convinzione che da anni è un po' al centro dell'operato dell'osservatorio e che viene giustamente richiamata nell'editoriale di questo numero. I territori montani sono ritornati in gioco, i territori montani non sono più rimasti ai margini e non sono più destinati a rimanere ai margini. Dal piccolo punto di osservazione della Fondazione possiamo dire che negli ultimi anni si sono moltiplicati segnali concreti che confermano questa questa direzione. E questi segnali ci pare che siano presenti anche nelle altre montagne del mondo, come dimostra il numero 10 di Arcalp e come vi illustreranno più ampiamente nei loro interventi i nostri ospiti di questa sera. In conclusione alcuni sentiti ringraziamenti, innanzitutto l'Ordine degli Architetti della Valle d'Aosta, il Presidente Sandro Sapia e tutto il suo staff che come sempre sono stati al nostro fianco nel promuovere questi incontri, tutta la redazione di Arcalp per questo ultimo bellissimo numero e per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme durante tutti questi anni. Anni tutti caratterizzati da un confronto continuo e devo dire sempre stimolante con tutta la redazione. Un ringraziamento a tutti i relatori, questa sera spazieremo dagli Appennini ai Balcani per arrivare fino al Giappone. Un cordiale saluto e un grande ringraziamento a tutti i relatori che hanno accettato il nostro incontro. Da ultimo consentitemi di ringraziare Barbara e Liz della Fondazione che come sempre sono state determinanti nell'organizzare questo incontro. Buon lavoro a tutti, so che ci sono molte persone collegate, un grazie a tutti e passo la parola a Sandro Sapia. Grazie. Grazie Roberto, buonasera a tutti. Sono Sandro Sapia e porto i saluti da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Valle d'Aosta. Ringrazio la Fondazione Courmoire Mont Blanc, qui rappresentata da Roberto Ruffier, per la costante e profigua collaborazione ormai ventennale con il nostro ordine. Ringrazio Elisa e Barbara, proprio a causa di questa profigua collaborazione ventennale che ci sopportano ancora e che sono poi i veri motori della Fondazione. Ma soprattutto ringrazio la redazione di Arcalp e gli amici Antonio De Rossi e Roberto Dini dello IAM per l'opportunità periodica che ci offrono nel presentare in anteprima le uscite di questa rivista. Noi non ci stanchiamo mai noi di sottolineare l'apprezzamento per questa rivista, che viene non solo da parte degli addetti ai lavori, ma da tutti quelli che le persone che vivono e abitano le Alpi, per i quali questa rivista è diventata davvero un punto di riferimento e di stimolo per meglio conoscere quelli che sono i processi di trasformazione e di evoluzione della nostra realtà alpina. Una rivista in grado di sollecitare importanti momenti di dibattito e di riflessione anche al nostro interno, nelle nostre riunioni e grazie a un meticoloso lavoro di studio, di analisi, della ricerca che è stato svolto dagli autori, che trattano semestralmente argomenti di interesse attuali e innovativi, proprio la caratteristica dell'attualità dell'innovazione, ogni sei mesi c'è la curiosità di capire ma che cosa sono alimentati e in effetti sono veramente un passo avanti, riescono sempre a stupirci e di questo io faccio davvero le sentite congratulazioni. Questo numero, per quanto mi riguarda, è particolarmente suggestivo, in quanto trasporta le Alpi da una dimensione locale, come siamo abituati a vederla, trasfrontaliera, ad una globale, quindi attraverso un attento confronto tra le differenti realtà costruttive nazionali e internazionali, quindi una panoramica sul mondo con degli esempi sparsi nel mondo, tra l'altro interessantissimo ho trovato perché ne conoscevo poco quello sulla parte delle montagne dei Balcani. Infatti gli articoli riportati presentano questi modelli progettuali di nuove architetture in questi territori presi in esame e analizzano e studiano i vari fattori di trasformazione, da quelli storici a quelli economici a quelli sociali, evidenziandone le diversità e le distanze tra i luoghi, cioè la loro anche frammentarietà, le differenze culturali che essendo così distanti insomma esistono, ma sottolineando però i temi e i problemi comuni. Ci si accorge che in questa trasversalità di paesi di montagna ci sono tanti temi e problemi comuni e credo che sia questo un po' lo scopo del numero nel Duveron 10, di questo ultimo numero. Tra le problematiche comuni da risolvere c'è sicuramente, questo lo si trova un po' in tutte le realtà, quello dello spopolamento, è avvenuto sicuramente in passato a causa principalmente di difficili condizioni di vita, l'assenza di molti servizi primari, questo ha comportato un abbandono dei centri minori per le più appetibili città, in grado sicuramente di soddisfare quelle che sono le opportunità di lavoro, le possibilità di studio o anche di accedere a tutte le forme di servizi. Oggi però sta accambiando qualcosa, lo diceva prima Roberto, c'è un sensore, ci sono dei fattori di cambiamento, sicuramente c'è una maggiore sensibilità verso l'ambiente e la natura, c'è una ricerca di una nuova socialità, una più umana, più solidale, in particolare per le nuove generazioni, ci sono delle nuove realtà produttive, non più come una volta che necessitavano grandi spazi, spazi periferia molto impattanti a punto di vista ambientale, quindi sta cambiando anche da questo punto di vista qua, forme di lavoro a distanza che insomma è diventato una realtà, un'occasione. Ecco, tutto questo insomma unito alle condizioni climatiche meno rigide che insomma ne stiamo accorgendo, in questi giorni ci accorgiamo come sono cambiate, tutto questo sta generando un'inversione in tendenza, cioè in atto è una vera e propria forma di riappropriazione della montagna da parte di utilizzatori che ovviamente fino a pochi anni fa non si sarebbero mai avvicinati a questi territori. Quindi adesso dobbiamo saper intercettare questa richiesta, ce lo diciamo tante volte, l'esigenza di questo ritorno alla montagna è senza dubbio la sfida che tutti quanti dobbiamo affrontare nei prossimi anni e che accomuna tutte le realtà montane che sono state presentate. Però per far questo è necessario individuare un innesco, un innesco che possa attivare quel processo di riappropriazione di questi luoghi attraverso la creazione di un nuovo modello sostenibile di comunità, la comunità, ecco, è lì il punto che dobbiamo andare a affrontare. Costituito da uno sviluppo economico, sociale, demografico, ma deve essere governato da strumenti programmatici e di pianificazione delle generazioni del territorio e questo è il punto difficile, questo è il punto dove anche noi diamo il massimo impegno con gli amministratori e con la politica che non c'è visione, non c'è programmazione, non c'è pianificazione. Ecco, lo sforzo che insomma tutti noi dobbiamo dedicare è proprio lì, nel cercare di dare una visione per utilizzare questi territori, perché è chiaro che bisogna garantire la sopravvivenza e l'evoluzione di una comunità, no? E' quindi indispensabile non riuscire a soddisfare almeno le esigenze primarie dei suoi abitanti, quindi fornire chiaramente i presidi sanitari, creare delle reti di connessione e comunicazioni efficienti e questo è obiettivamente assolutamente necessario, garantire l'istruzione attraverso la presenza della scuola, sono elementi essenziali per immaginare realisticamente una vita in montagna. Gli esempi che sono trattati nella rivista evidenziano chiaramente come un'architettura di qualità abbia un ruolo strategico per la vita di queste comunità, però deve essere un'architettura capace di coniugare tematiche sociali, antropologiche, culturali, facendone di queste una sintesi, così da proporre dei modelli progettuali complessi che non si limitano alla realizzazione di soli e semplici contenitori per quanto esteticamente e architettonicamente belli, cioè il bello deve essere anche ricercato nella funzionalità, nella capacità di generare, ecco credo che tutti noi dobbiamo perseguire questa strada. Noi come ordine, grazie alla collaborazione con la fondazione, ma grazie anche all'associazione Architettura Calpina, tra l'altro saluto gli amici collegati e il presidente Simone Colla con cui sta facendo un grandissimo lavoro, ci stiamo attivando e stiamo continuando a lavorare per questo, sensibilizzare ma proponendo anche delle soluzioni operative, ecco. Questo insomma è quella strada che tutti quanti dobbiamo credo seguire. Vi ringrazio a tutti e passo la parola per l'introduzione a Roberto Dini. Buonasera a tutti, mi sentite, spero e spero anche vediate lo schermo con una presentazione che abbiamo preparato. Beh, ringrazio anch'io le parole di Sandro Sapia dell'Ordine degli Architetti per questa introduzione sempre più, come dire, in lusinghiera rispetto alle aspettative, anche ci mette un po' in difficoltà. Ogni volta che presentiamo un numero diverso della rivista siamo sempre più, come dire, sotto pressione perché sappiamo appunto che siamo sotto gli occhi di sempre più riflettori che sono interessati a sapere, a scoprire cosa andiamo a produrre ogni sei mesi. Ringrazio anche la Fondazione per l'ospitalità e questo momento del webinar semestrale per noi è un'occasione importante per raccontare i contenuti del numero e anche per confrontarci con il mondo professionale che oltre a essere il mondo dei nostri lettori è anche il mondo di coloro che producono, progettano, realizzano le architetture che poi andiamo a pubblicare. Quindi questa doppia valenza ci tengo a sottolinearla. So che siete appunto in tanti collegati, quindi forse due parole, brevemente due parole di riassunto per contestualizzare un minimo la rivista Arcalpe per chi non la conoscesse già, è appunto una rivista internazionale dedicata appunto all'architettura e al paesaggio alpino. Perché rivista internazionale? Perché è una rivista che ha al suo interno un comitato scientifico fatto da figure di rilievo internazionale. Abbiamo studiosi, architetti storici dell'architettura, storici del paesaggio provenienti dai diversi paesi delle Alpi, non solo italiani, quindi ma francesi, svizzeri, austriaci, della Germania. Quindi la nostra lista di referenti scientifici ogni volta si allarga e si arricchisce sempre ad una dimensione internazionale. Perché architettura e paesaggio alpino? Perché è una rivista che nasce nell'ambito proprio del nostro centro di ricerca insediato al Politecnico di Torino che si chiama appunto Istituto di Architettura Montana e che dal 2010, dal 2009, anzi, produce, elabora riflessioni, ricerche, studi e progetti di vario genere legati proprio al mondo delle Alpi, legati al mondo dell'architettura, del paesaggio nelle Alpi. Quelle che vedete in sequenza sono i numeri della vecchia serie che è disponibile solo online e che è stata appunto un po' l'inizio di questa avventura della rivista ArcAlp che è successivamente evoluta in una versione cartacea. Quelle copertine che vedete sono la stessa rivista che è stampata e che trovate anche come rivista Open Access direttamente sul sito della rivista che è appunto ArcAlp.it. Come è stato più volte ricordato oggi siamo giunti al decimo numero, quindi per noi un traguardo importante anche perché non è facile sia, come dire, nella distrettezza di risorse e di personale che l'università, ma in genere il mondo del professionale dell'architettura ha e dunque non è sempre facile rispettare i tempi di uscita, ma soprattutto il lavoro più difficile è trovare ogni volta delle tematiche che siano di interesse, che siano contemporanee nel suo essere appunto dei temi di architettura all'ordine del giorno e di interesse in un ambito comunque di lavoro ricco, complesso, ma comunque circoscritto. Proprio per queste ragioni ogni volta appunto cerchiamo di sviluppare delle tematiche specifiche, ogni numero ha un fil rouge, diciamo così. Abbiamo cominciato con il numero uno che faceva una panoramica dei diversi rapporti tra la regionalità alpina e la produzione architettonica in quelle differenti regioni, quindi attraversando tutte le aree delle Alpi, dalla Francia alla Slovenia. Abbiamo poi fatto diversi numeri dedicati per esempio al tema del patrimonio, di come l'architettura contemporanea attinge a quel bacino di riferimenti culturali e progettuali costituito dal patrimonio storico. Abbiamo fatto anche dei numeri dedicati all'architettura del Novecento nelle Alpi, in particolare il 3, alcuni numeri dedicati allo sviluppo locale. Parlava prima appunto Sandro Sappia di questa importanza del tema dell'architettura come supporto alle realtà locali, alle nuove economie di montagna, bene il numero 4 sulla rigenerazione ma anche il numero sulle architetture per la produzione hanno in qualche misura indagato questa tematica. Altri numeri poi hanno, si sono occupati per esempio del tema dell'ambiente come il numero 9. Con questa ultima uscita abbiamo voluto, proprio per festeggiare il decimo numero, abbiamo voluto provare a uscire dai confini della Convenzione delle Alpi, uscire dai confini nazionali ma anche europei perché abbiamo voluto esplorare un po' tutte le montagne del mondo alla ricerca di quelle che erano le attuali esperienze di architettura contemporanea. È stata un po' una sfida nel senso che avevamo chiaro l'idea, avevamo chiaro l'obiettivo del numero ma non sapevamo se questa questa esplorazione ci avrebbe portato appunto a dei risultati, a quale tipo di risultati ci avrebbe portato. Quindi è stato un po' anche questo come altri numeri, un numero un po' sperimentale che ha confermato alcune cose ma ci ha anche regalato alcune sorprese che speriamo anche di trasmettere a coloro che leggeranno la rivista. Scorro velocemente il numero un po' per mostrarvi una visione di insieme. Oggi purtroppo non possiamo avere più con noi in due ore di webinar tutti gli autori del numero. Abbiamo selezionato appunto alcuni interventi che ci sembrano interessanti per dare un quadro attraverso appunto una visione più specifica, alcuni approfondimenti che attraverso una visione specifica danno comunque un quadro generale abbastanza completo. Come vedete il numero attraversa tutti i paesi, attraversa molti paesi dicevamo dell'Europa ma anche con delle puntate appunto da altre parti del globo, in particolare negli Stati Uniti, in Sud America, nei paesi nordici fino appunto alle montagne del Giappone. Il numero è strutturato secondo, ecco qui vedete una mappa riassuntiva, è strutturato secondo degli ambiti tematici, nel senso che quello che ci è sembrato poter scorgere analizzando, riguardando la produzione contemporanea di architettura nelle varie regioni montuose, abbiamo individuato tre grandi tematiche che secondo noi racchiudevano un pochino i diversi approcci ad oggi in ballo. Il primo tema è quello della rigenerazione che non mi dilungherò, so che ne parlerà molto la prima relatrice che è Adelina Picone, un tema che è molto importante nel bacino del Mediterraneo che abbiamo individuato, in particolare i saggi di approfondimento sull'Appennino e sulle aree interne dell'Italia, mostrano appunto questo tema di come l'architettura contemporanea sia uno dei motori di una nuova visione che vede la ricerca appunto di una nuova abitabilità per questi territori delle aree interne, quindi vedete abbiamo attraversato con i nostri autori alcune aree come la Sicilia, come la Sardegna per arrivare poi infine anche a toccare i territori della Corsica. Un secondo grande tema che è emerso da questa esplorazione è quello legato al paesaggio, nel senso che in molti contesti, soprattutto mi riferisco ai paesi nordici, agli Stati Uniti o al Giappone dove ancora il tema dell'architettura contemporanea è ancora fortemente declinato rispetto a un tema di relazione col paesaggio, di infrastrutturazione, diciamo così, di paesaggi dal forte valore ambientale, dal forte caratteristica di naturalità. Quindi qui vedete un approfondimento di Sofia Nanini sulle montagne del nord Europa, un interessante saggio di Yuhin Irase che abbiamo l'onore di ospitare oggi più tardi nel webinar dal Giappone, un approfondimento sulle montagne del Cile in Sud America e anche sull'architettura contemporanea nelle montagne del Nord America. Infine un ultimo tema un po' più complesso anche che è stato da rielaborare a livello tematico all'interno dell'Umbra, quello che riguarda la memoria, ovvero ci è sembrato che in alcune aree montuose d'Europa, pensiamo a tutta l'area balcanica, l'area dell'est Europa, il tema appunto della costruzione contemporanea dei paesaggi e delle architetture oggi in queste aree sia un fenomeno estremamente complesso che intreccia molteplici aspetti legati appunto alla storia particolare di questi luoghi che sono stati appunto un crocevia di storie, di culture molto differenti, quindi l'idea di stratificazione di memoria in queste aree è particolarmente importante e ancora oggi connota la produzione contemporanea di architettura in queste aree appunto che vanno dai Balcani, dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Bosnia e Herzegovina fino ancora all'Albania o a Itatra a confine tra la Slovacchia e la Polonia. Mi sono dilungato già troppo per cui lascio la parola direttamente alla prima relatrice che è appunto Adelina Piccone che so che farà un intervento in una immagine ma proprio per questa ragione io lascio la copertina del suo saggio all'interno della rivista. Adelina è un professore associato in architettura e progetto urbano presso l'Università Federico II di Napoli, una figura importante sia per i suoi studi ma anche soprattutto per la sua attività sul campo, consentite di dire perché attraverso appunto il Master ARINT dedicato appunto alle tematiche delle aree interne è una delle figure di rilievo di azione diretta diciamo così sul tema della rigenerazione nelle aree appunto del sud e nell'area peninica e nelle aree del sud Italia. Per cui lascio a lei la parola. Grazie. Grazie molto Roberto, grazie a tutti. Innanzitutto per l'invito a scrivere all'interno di questo numero della rivista che è un numero che apre ad altri contesti rispetto a quelli che la vede la vede nascere, la vede attivamente impegnarsi e questa apertura tra l'altro io non la ritengo casuale in un momento storico in cui la complessità di una serie di contingenze e l'incrociarsi di una serie di eventi sta portando sempre più alla luce la necessità di stabilire relazioni tra i diversi contesti, di stabilire, di istituire reti, reti tematiche se non reti territoriali. Rigenerazioni e contestualismi appenninici, in realtà il mio è un intervento all'interno della rivista, è uno scritto che è un mio momento di riflessione su una serie di temi, una serie di questioni che quotidianamente mi trovo ad affrontare proprio nel corso di questa militanza che Roberto ha, Roberto Dini ha appena ricordato. Il Master ARINT è un Master che sta per intraprendere l'inizio della quinta edizione e che è un Master che si occupa di aree interne di piccoli paesi e lo fa stando ARINT dentro le realtà territoriali e sperimentando relazioni con i contesti e relazioni con le persone, con le comunità per mettere in atto dei processi che sono sostanzialmente dei processi di natura rigenerativa e soprattutto per comprendere, perché è un Master appunto architettura e progetto negli aree interne nei piccoli paesi e è un Master che cerca di indagare, perché ormai non è assolutamente scontato, quale sia il ruolo dell'architettura dentro i processi e se addirittura l'architettura riesce ed ha la possibilità di innescare dei processi di rigenerazione, come alcuni casi pilota, alcuni casi interessanti in Italia ed in Europa ci stanno in qualche maniera in indicando. Perché è una riflessione critica? È una riflessione critica la mia di fatto all'interno di questo, lo scritto che è proposto all'interno della rivista. Perché è una riflessione critica? Perché aprire alle altre montagne per me che vivo e lavoro in Campania ha soprattutto assunto il significato di riflettere su una condizione che è la condizione dell'essere meridionali e quindi di quella famosa questione meridionale di cui siamo sempre e comunque eredi, seppur non consapevoli, o di essere ancor più meridionali, cioè di considerarci invece il tramite con quel Mediterraneo che tra l'altro in questi giorni è particolarmente presente nelle cronache dell'orrore. La questione meridionale, io ho sempre escluso dal punto di vista proprio concettuale che i temi della marginalizzazione e dello spopolamento dei piccoli paesi, delle aree interne e quindi anche delle aree montane, fossero in qualche, fossero troppo interrelati con la questione meridionale. Perché? Perché si tratta di una condizione che viene esperita in moltissimi contesti e d'altro canto anche questo numero della rivista La Testimonia. Contesti molto diversi, abbiamo avuto modo anche di ragionare su contesti europei, anche nord europei, che sono investiti dalle condizioni di marginalizzazione e spopolamento. Per cui il portare dentro la questione meridionale questo tema mi sembrava un po' eludere una serie di condizioni importanti invece, rilevanti, per poter avere uno sguardo critico e quindi comprendere come innescare questi processi e dove innescare questi processi. Questo pur riconoscendo il ruolo molto importante di personalità come Malle Rossidoria, Rocco Scotellaro, che hanno avuto in questa vicenda, seppur dal punto di vista culturale di ricerca di studio. Oggi però devo dire che alcune eh condizioni che riguardano in particolar modo il nostro paese, in particolar modo come eh ed in particolare come il PNRR sta agendo all'interno proprio delle dinamiche di trasformazione della realtà dei piccoli paesi eh devo fare un piccolo un piccolo passo indietro rispetto a questa mia a questa mia diciamo eh a questo assunto da cui sono sempre partita dal punto di vista critico eh e lo faccio anche in funzione dell'autonomia differenziata, lo faccio anche in funzione eh della di quel che sta accadendo a livello statale sulla definizione dei LEP, a livelli essenziali delle prestazioni che sembra che nulla eh nulla abbiano a che vedere con la dimensione spaziale, la dimensione territoriale, quando invece diventeranno eh rilevanti nella nella costruzione delle nuove spazialità. Eh per cui io in questo momento considero quella della questione meridionale come una condizione diversa all'interno di questo tema rispetto al prima. Tra l'altro è da poco stato pubblicato uno degli altri un ultimo libro della di Donizelli eh Lentopede che racconta la condizione calabra ehm che in qualche maniera anche riprende eh i i temi di questo di di questo tipo di temi però eh in in realtà forse anche forte gli studi che appartengono al mio background di ricerca e culturale che eh mi hanno portata a conoscere la mediterraneità eh in architettura e la condizione di mh dell'abitare eh in alcuni dei paesi mediterranei della della sponda nord del mediterraneo in particolare eh mi porta a pensare ad una non tanto ad una riconsiderazione del del di una idea meridionalista in nella nel considerare insomma una possibilità di nuove relazioni eh quanto eh a riflettere su una nuova condizione mediterranea in un momento come questo che tra l'altro eh dovrebbe molto eh farci ragionare proprio sulle relazioni e sulla possibilità di istituire reti tematiche eh dettori tematici di connessione eh tra l'Apennino e il Mediterraneo ma eh anche tra le Alpi l'Apennino ed il Mediterraneo eh accogliendo una visione che è una visione che è stata portata avanti anche da Fondazione Appennino eh una visione in cui ehm traspare mh una sorta di 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 impianto possibile di una nuova ricerca eh che riprende i principi di metromontagna no? Però allargando questi principi a eh eh questa è la possibilità di intervento alla ad una ricerca che coinvolga il il la mediterraneità una mediterraneità che non può essere più considerata come eh la trasposizione mitopoietica di cui parlava Benedetto Gravagnolo o eh non può fermarsi pur mantenendo forte l'eredità alla alle categorizzazioni storiche di Brodell o di Matevievic cioè di questa mediterraneità trasposta in quanto mito in architettura che è stata la mediterraneità del degli architetti del moderno ma ehm una mediterraneità che possa riuscire a ehm configurare a prefigurare visioni visioni di trasformazione visioni di relazioni tra i paesi eh che possa accogliere il portato per esempio della digitalizzazione eh che sappia eh costruire domande eh costruire domande sapienti per interrogare le intelligenze artificiali che sono entrate prepotentemente nella nostra vita nel nostro sistema di conoscenza e che ci aiuti eh a capire ehm come ehm mettere in pratica processi che siano possibilmente transdisciplinari e transcalari ehm e di stare e ci aiuti a stare nei contesti a conoscere i contesti eh con una certa dose di aerodinamicità diciamo in un certo senso no? Per poter tessere delle relazioni tessere delle 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 traiettorie territoriali ehm a prescindere invece e abbandonando la nostra predisposizione a costruire invece perimetri e confini eh predisposizione che devo dire ha dimostrato anche la SNAI che purtroppo è stata probabilmente anche il grande limite della SNAI o che dimostrano e continuano a dimostrare eh le pianificazioni no? I nostri piani paesergistici anche quelli di ultima generazione sono piani che costruiscono confini, perimetri che eh identificano eh una serie di di perimetrazioni spesso tra di loro contrapposte eh chi non ha nei propri piani eh perimetri differenziati per unioni di comuni, comunità montane, gall, parchi, zone ZES, zone ZPS, eccetera e chi più ne ha chi più ne eh più ne metta per invece probabilmente eh una nuova visione, una nuova idea di trasformazione territoriale dovrebbe anziché costruire perimetri chiusi, provare a tracciare delle linee che siano dei vettori di legami tematici, direttrici di produzione, direttrici di sviluppo probabilmente ehm in una dimensione e ragionando quindi su una dimensione di questo genere ehm quello che è protagonista ed è protagonista soprattutto anche delle delle architetture che vengono eh che che sono nel numero della rivista e eh lo è eh devo dire indiscutibilmente di tutte è proprio il contesto che assume una nuova dimensione per questo contestualesmi appenninici come titolo dell'esaggio una nuova dimensione che è una dimensione innanzitutto appunto eh transdisciplinare il contesto studiato da molti punti di vista eh e eh verso con l'idea di 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 protendere verso un nuovo contestualismo che ehm un po' mi mi ricorda l'idea eh o almeno io lo associo spesso eh all'idea di contesto che viene viene trasmessa da Sere nel Daiovino nel suo libro sul paesaggio e che viene viene associato in realtà ad un testo eh ad un testo che in realtà che che tiene insieme una tessitura di significati, esperienze, processi, sostanze che compongono la vita degli esseri umani e che ehm tiene insieme umani e non umani eh insieme ai luoghi. Ehm architetture capaci di eh trasfondere l'idea di questi contesti come le immagini delle foto a corredo del del saggio che sono delle foto di due fotografi Irpini, Federico Iadorola e Pasquale Palmieri, una una che hanno titolato come paesaggi interiori che eh guardano sempre ai contesti attraverso la eh lo sguardo e attraverso la presenza eh dell'uomo che non è però mai o quasi mai presenza protagonista e non è mai o quasi mai presenza fissa e stabile ma è sempre una presenza in in movimento. Ehm sembra che il lavoro nei paesi eh e soprattutto in questo in in questo numero traspare in maniera molto chiara come anche negli altri numeri di Alcab. Ehm dia stia dando campo aperto a sperimentazioni e costituisca una sorta di viatico verso l'innovazione, no? Apre a delle dimensioni di sperimentazione non possibile in altri contesti territoriali in cui l'autoimprenditorialità, l'internazionalizzazione, i legami ehm possibili di reti territoriali con il Mediterraneo, tra il Mediterraneo, l'Appennino e anche eh le Alpi e il Nord Europa sembrano essere finalmente possibili. Ehm in architettura si è passati da una fase che è per esempio post-disastro, nel nostro caso il disastro è stato nel nostro caso quello irpino, campano in generale il disastro è stato il terremoto, in cui si è pensato che bastasse investire sulla ricostruzione degli immobili, del patrimonio per avere una automatica conseguenza del riabitare i territori e si è passati dicevo ad una consapevolezza che alla parola ricostruzione in nella maggior parte dei casi eh bisogna sostituire la parola appunto rigenerazione e mh spesso e spesso le architetture come alcune delle architetture eh che sono sono descritte in questo lì in questa in questa rivista di in particolar modo mi riferisco ehm alla 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 casa della cultura di Aquilonia che conosco molto bene di Enzo Tenore e Catea fabbricati eh riescono a fare cioè riescono ad essere architetture eh come vettori di rigenerazione dei propri contesti e in molti casi sta accadendo anche questo i processi di rigenerazione vengono intrapresi coordinati da architetti che si occupano non soltanto delle progettualità relative agli spazi aperti all'edifici o alla modificazione stessa dei paesaggi alle forme tante forme di eh e declinazione di riusi siano essi temporanei i riusi di qualunque tecnologici di natura energetica ehm ma eh in virtù di quella capacità eh pratica di lettura e di interpretazione proprio dei testi paesaggi dei contesti ehm riescono sono architetture che riescono a mettere in piedi delle processualità a stabilire la possibilità di codisegnare insieme e coprogettare insieme agli abitanti dei luoghi diventando appunto eh registi delle azioni molto spesse molto spesso capita che gli architetti diventino registi delle azioni ecco in questo caso eh è come se eh si stesse prefigurando eh una nuova figura di architetto l'architetto rigeneratore che è ehm tra l'altro una funzione che credo sia molto nelle corde anche della formazione stessa dell'architetto no? In cui infatti il il corso di studi di architettura è probabilmente l'unico corso di studi che compendia le humanities con le scienze dure ehm stimolando quindi il pensiero ad un'apertura, all'istituzione di relazioni, ad integrare ehm eh questioni, luoghi, concetti, teorie eh grazie proprio ad una capacità speciale che è quella di concepire le spazialità ehm e spesso però a tutto ciò bisogna aggiungere nei casi felici appunto la la passione che è il motore di tutte le cose. Un ultimo pensiero prima di chiudere eh va a Riace e eh all'epilogo molto felice di queste ultime giornate proprio pensando ad un passionario che ha provato a mettere in piedi i processi di rigenerazione eh contro ogni previsione e contro ogni eh regolamentazione di natura burocratica. Grazie. Grazie Adelina per eh il tuo intervento eh mi sentite spero di sì eh non siamo perfettamente in orario quindi ti ringrazio anche per la le tempistiche che sono ci aiutano a a tenere insieme questi eh interventi queste misure del webinar che devono essere eh ricche ma allo stesso tempo veloci e e dinamiche. Eh cambiamo decisamente eh geografia nel senso che ci spostiamo con il prossimo intervento di Alexander Ostan ci spostiamo dall'altra parte diciamo così dell'Adriatico eh e appunto per per introdurre lascio appunto lui la parola per il suo il suo saggio eh devo dire che il la parte appunto come dicevo all'inizio eh la l'esplorazione fatta nei Balcani attraverso gli autori che abbiamo coinvolto nel senso che ehm Alexander Ostan è stato un po' il regista di una eh di una di un di un lavoro corale fatto a più voci da alcuni studiosi che hanno indagato con dei punti di vista eh personali degli approcci anche diversi aree che sono molto diverse fra di loro. eh in particolare mi riferisco appunto ai saggi di Dario Kristic sullam sui territori della Bosnia della Bosnia e Herzegovina, il saggio di Andrei Strekovic sulla sulle montagne della Serbia e infine il saggio di eh Robert Jonathan Loher che indagava invece le aree interne montane della della Croazia. Eh a Ostan abbiamo chiesto di fare una rilettura critica che cercasse di tenere assieme questi territori molto diversi. Lui appunto ha specificato nel suo saggio come eh quando si parla di Balcani si parla di contesti geografici e culturali eh molto particolari che hanno una storia eh particolare che hanno un che sono un incrocio un crocivia di culture molto diverse tra est e ovest tra al nord e sud dell'Europa, del Mediterraneo e quindi anche ancora oggi l'architettura e le trasformazioni urbane che eh architettoniche che si sono verificati in queste aree portano si portano con loro appunto queste queste differenze queste eh queste peculiarità appunto culturali che gli che li hanno che li hanno caratterizzati. Ci tengo particolarmente oggi ad aver invitato Alexander perché è da tanti anni che collabora con il nostro comitato editoriale e lo fa con estrema passione eh quindi eh non solo eh autore di di questo saggio ma è più in generale un nostro riferimento importante per ciò che è il l'est delle Alpi eh non l'ho non l'ho detto ma Alexander ha una vita molto intensa eh lavorativa e culturale in Slovenia eh ha un fondato uno studio di progettazione architettonica a Lubiana e quindi fa attività professionale e eh coniuga questa sua attività professionale con la la vita da studioso, da ricercatore, da docente eh presto appunto la facoltà di architettura di Lubiana in cui insegna appunto storia eh dell'architettura. Lascio a lui la parola. Grazie. Roberto grazie eh forse primo di di aprire l'immagine di di fare un buonasera a tutti eh voi di ringraziarmi per per l'invitazione eh I'm honored eh adesso vado eh sull'inglese perché mio italiano non è così eh abbastanza bene per fare la lettura in italiano così eh scusa scusimi per per eh eh trasformarsi trasformarmi in inglese. Ok grazie. Bene grazie Roberto e grazie all'intero team di Arcalp grazie per avermi invitato. Cercherò di fare una breve presentazione su ciò che è è stato pubblicato nell'ultimo numero il numero dieci di Arcalp come Roberto ha già spiegato io scrivevo di della storia dell'architettura eh in Slovenia dalla tradizione ai numeri recenti l'ho fatto negli anni passati nella anche versione precedente di Arcalp ma eh questa volta mi è stato chiesto di parlare dei Balcani e ho accettato. Posso far andare avanti le slide da solo oppure lo fa qualcun altro? Mi potete dare qualche indicazione? Vi faccio un cenno per farvi cambiare slide o alcune immagini. Ecco qua vedete innanzitutto l'immagine geografica dell'Europa che conoscete sicuramente molto bene vedete le parti marrone eh che sono le Alpi e noi invece facciamo parte della regione delle Alpi Giulie eh sud est zona nord dell'ex Jugoslavia eh facciamo parte tradizionalmente dell'impero austro-ungarico eh quindi della regione della Venezia Giulia del Friuli e così via. Dall'altro lato però poi nel ventesimo secolo dopo la prima guerra mondiale eh siamo stati riconnessi ai paesi nel sud di questa regione che hanno ricostituito eh questa regione. Vi parlo un po' della storia per poter leggere meglio. Vedete però che ci sono altre montagne in altre regioni europee. Vedete l'Anatolia e poi spostandoci a est appunto vediamo eh le montagne dell'Anatolia e più a est e poi se guardiamo alla Slovenia troviamo le montagne dinariche. Forse non vedete il mio mouse che si sposta. Non so se riuscite a vedere sto puntando prima ai dinari e poi ci spostiamo ancora più in basso verso la Macedonia e altre eh catene montuose nella regione dei Balcani. Slide successiva. Ecco qua lo vediamo in maniera anche più esagerata. Vediamo la geomorfologia di questa parte dell'Europa. Avanti. E ancora avanti. No? Indietro? Pardon? Perfetto. Ecco qui si vede bene nell'angolo a nord ovest vediamo la Slovenia. La Slovenia condivide regioni alpine con un po' di eh mediterraneo. Quindi siamo nella regione Alpe Adria che è collegata alle Alpi dinariche. Eh lo vedete che c'è questa linea che si muove diagonalmente nella Bosnia-Herzegovina che è al cuore delle Alpi dinariche. E poi se ci spostiamo nella regione del quasi in Grecia nel nord della Macedonia è quella che originariamente era l'etimologia dei Balcani cioè le montagne balcaniche in Bulgaria se lo vedete vicino alla Serbia e etnomegicamente non era realmente corretto nel diciannovesimo secolo però in realtà è stato preso come fonte come termine per descrivere l'intera penisola. E poi ci sono altre regioni in montane in Bulgaria e in parte in in Grecia. Zona Rila a Rodopo. Sì puoi cliccare sulla slide per andare avanti. Proviamo. Ecco il termine penisola balcanica non è un termine esatto. Sapete che la penisola è definita molto chiaramente ad esempio nella forma assivale dell'Italia anche nella penisola iberica c'è un confine i Pirenei e il resto è circondato dal mare. Invece i Balcani in realtà non hanno davvero una divisione così netta tra nord e sud. Non è realmente una penisola dove iniziano i Balcani. Non c'è una definizione molto chiara e i geografi moderni in effetti non parlano tanto di Balcani ma parlano in contesto politico di Europa sudorientale. Però per darvi alcuni esempi di definizione vediamo il fiume in questa cartina non so se li vedete nella parte sud della Slovenia in questo contesto è a sud del Savas. Il Savas è il fiume che ha la propria sorgente in Slovenia e poi scorre fino a Belgrado dove si incontra col Danubio e poi il Danubio sfocia nel Mar Nero. Ecco quest'area settentrionale, questo territorio a nord di questa divisione fluviale in realtà per definizione non appartengono ai Balcani invece tutto ciò che è al sud del fiume è Balcani. La Grecia però fa più parte del Mediterraneo in termini di regioni e parte della costa croata, la maggior parte della costa croata appartiene anch'essa al Mediterraneo quindi vedete non c'è una definizione davvero chiara di che cosa è la penisola balcanica e anche la morfologia della penisola non ha un'identità geografica, non è un tributo geografico così specifico e dunque cerchiamo di evitare recentemente di usare questa terminologia però questa balcanizzazione è un po' un sintomo che racconta soprattutto gli aspetti negativi dell'atteggiamento balcanico. Ci sono fonti storiche che potrei approfondire però tutto legato alla corruzione, al nepotismo quindi diciamo che quando si parla di balcanizzazione spesso questa è un'accezione negativa e fa riferimento alle parti più in ombra di questa regione che ha visto tante lotte tra gruppi etnici e tra tribù per la conquista del territorio. vedete che ci sono delle montagne, il cuore di questa regione è infatti subalpina o alpina. Provo adesso a spostare io stesso le slide. Ecco, qua vediamo una cartina dove vediamo evidenziati tutti i paesi che in teoria dovrebbero appartenere ai Balcani anche se la Romania in realtà non si sente parte dei Balcani, non vorrebbe far parte così anche per la Moldavia che è molto a nord-est, la Grecia e una parte della Turchia non si sentono appartenenti ai Balcani. Diciamo comunque in generale che questo termine Balcani è molto elusivo. Ho una citazione nella slide successiva, una citazione di un nostro noto filosofo Slavojic che scherza e parla della definizione dei Balcani e ci scherza. E qua vedete che la Bosnia Erzegovina è proprio il cuore della regione alpina di questa regione geografica. Io ho parlato prevalentemente della Bosnia Erzegovina, altri autori hanno parlato di altre regioni, una parte sud della Serbia che ha più colline e poi c'è il Kosovo che non è stato coperto dagli articoli di questo numero, così nemmeno la Macedonia, però credo che ci sia un articolo invece sull'Albania. Anche il Montenegro ha degli esempi molto interessanti di architettura tradizionale montana. Quindi in questo contesto abbiamo parlato della Croazia che è in parte anche nell'Europa centrale, cioè fa parte anche delle tradizioni della cultura dell'Europa centrale e perché faceva parte dell'impero austro-ungarico e la sua capitale Zagabria è molto europea e la costa poi ha un suo carattere, una sua personalità. C'è anche un contesto religioso perché la Croazia è cattolica, anche la Slovenia lo è e la Bosnia è già divisa. La Bosnia è in parte musulmana, in parte cattolica e in parte ortodossa, mentre la Serbia è ortodossa, il Montenegro è ortodosso, il Kosovo è musulmano, nel nord della Macedonia è un mix tra musulmani e ortodossi e anche l'Albania è una cultura mista. La Bulgaria è ortodossa. E dunque ci sono anche delle divisioni religiose che definiscono i contesti culturali di quest'area e che influenzano un po' tutto, dagli aspetti antropologici agli aspetti politici. La religione ha anche un ruolo fondamentale nel contesto della bau cultura, cioè della cultura, del vivere, della costruzione della cultura. Tutto è molto legato e non si può dividere l'aspetto della cultura della vita dalla cultura più ampia, dalla storia, dalla cultura territoriale, dalla cultura antropologica e anche da quella religiosa. Questo è il filosofo che citavo prima, Slavoj Zice, che dice se si chiedesse ad un austriaco dove sono i Balcani, l'austriaco direbbe beh in Slovenia è lì che iniziano i Balcani insieme ai primitivi. Se lo si chiede ai tedeschi direbbero beh dall'Austria avevano un impero, sono mischiati ormai con tutti, sono balcanizzati. Se la stessa domanda la si fa ai francesi direbbero beh inizia dalla Germania, da quei fascisti. E infine i britannici direbbero che tutta l'Europa continentale di oggi dovrebbe essere considerata una grande penisola balcanica dove la burocrazia di Bruxelles risiede nella nuova Costantinopoli e i britannici sono l'unica eccezione. Ecco questa è un po' l'idea che i paesi del nord spesso proiettano e balcanizzando questa regione. Lui lo fa naturalmente in maniera anche un po' provocatoria ma la divisione poi è quella che vi ho fatto vedere guardando anche ai fiumi. Però sono ovviamente termini che vanno usati in un contesto molto delicato. Questi sono i Balcani originali, c'è una piccola catena montuosa e poi tutta la regione ha preso il nome da questa piccola catena montuosa che vi faccio vedere. Ora cercherò di farvi vedere un po' lo scenario di questa regione quindi andiamo velocemente con le prossime slide. Possiamo andare avanti per darvi un po' un'idea del contesto. Ecco vedete che la geomorfologia, il carattere, il paesaggio di questa regione è diverso dalle Alpi. Ci sono però anche delle somiglianze. È una regione più bassa, ci sono pascoli, troviamo anche un patrimonio culturale presente. Da un lato dunque è ancora relativamente selvaggia come regione ma vede una crescente urbanizzazione. Questa natura selvaggia rende quest'area di difficile approccio e dunque la protetta dal diventare eccessivamente urbanizzata nel corso della storia. Vediamo ancora dei contesti naturali, chiamiamoli innocenti. Poi accanto troviamo dei nodi di densa urbanizzazione. Vediamo gli strati storici. Ci sono molti siti preistorici che sono molto interessanti. Questo è l'Epenskivir vicino al Danubio o meglio sul fondo del Danubio è una gola, è una gola a sud di Belgrado, dove c'erano degli insediamenti con delle case coniche aperte verso il fiume a sud ovest. Quindi troviamo questi resti preistorici. C'è anche un museo all'aria aperta che è molto interessante. È realizzato su terrazze e poi abbiamo Uccedol, Vincia e altri siti preistorici anch'essi molto interessanti, alcuni meglio preservati di altri. Questo è Okhrid nel nord della Macedonia. Questa è una ricostruzione anche se non è una ricostruzione scientificamente molto corretta. se si fa un confronto con quello che è stato fatto in Slovenia nel nord dell'Italia recentemente, ecco i nostri siti sono siti UNESCO, questo diciamo che è un po' un'interpretazione volontaria. Comunque è una cultura che risale a circa 6.000-7.000 a.C. e che esisteva anche in quest'area. Qua vediamo una cartina che ci fa vedere il confine che storicamente definisce un po' la mentalità e il modo di pensare ai Balcani e mostra anche le affinità culturali. Vedete che c'è l'impero romano in rosso a ovest e invece quello a Escom con Sattinopoli. In questo caso il confine è a est della Bosnia di oggi. Questo confine è molto forte, è stato un determinante divisione molto importante. già in periodo preistorico e poi fortemente in epoca romana e anche successivamente. È un confine forte durante l'impero ottomano che stava conquistando la regione balcanica. I turchi sono arrivati tramite via Costantinopoli e sono arrivati fino a Vienna e a Budapest. e vedete che il confine è di nuovo in Bosnia, stavolta è un po' più spostato a ovest e nella parte meridionale della Croazia e 400 anni di occupazione più o meno con Montenegro, la Macedonia e parte della Bulgaria che sono state occupate dagli ottomani. Ecco, questi pattern culturali che hanno colorato questa regione fanno profondamente parte dell'immagine più ampia di questa cultura e dunque se si studia questa regione bisogna conoscere quelli che sono stati gli eventi storici che l'hanno caratterizzata e influenzata principalmente. C'è stata la guerra dei Balcani all'inizio del ventesimo secolo e poi la prima guerra mondiale. Anche questi eventi hanno influenzato radicalmente la dinamica della regione anche in termini etnici. Si è creato questo mix di gruppi etnici, un mix di lingue e di religioni. Di nuovo delle mappe storiche ma non entrerò nei dettagli. Qua vedete c'è anche una parte meridionale della Romania e della Serbia che fanno parte di questa regione. Ora, entro immediatamente invece nel tema dell'architettura in tempi più recenti. Vi mostrerò alcuni esempi tradizionali di architettura. Abbiamo in totale quanto tempo ho? 20 minuti? Mi puoi aiutare con il timing? Perché non vorrei metterci troppo. Questa è Sarajevo, la capitale balcana dell'ex Yugoslavia. È l'unica città che è al cuore delle montagne delle Alpi di Nariche. Zagabria è piuttosto a nord. E ha soltanto delle grandi colline a nord di Zagabria, ma se no è abbastanza in pianura. Lo stesso vale anche per Belgrado, che di fatto non ha nemmeno delle colline. Sarajevo ha soltanto delle piccole alture. E poi Sarajevo in realtà è l'unica città che ha un contesto montano importante. Il XIX secolo, questa è un'immagine di Sarajevo, dove vediamo già un mix di cultura islamica e di cultura occidentale, che è arrivata con l'impero austro-ungarico e che è rimasta a Sarajevo a lungo. Ed è leggibile, lo vediamo, vediamo i minareti da un lato e poi invece un'architettura diversa. C'è un'architettura più orientale sulle terrazze della valle in cui si trova Sarajevo. E questa è stata anche la sfortunata situazione di Sarajevo nelle ultime guerre, negli anni 90, perché proprio per via di questa posizione Sarajevo si è trovata a metà tra le colline. Gli eserciti di occupazione sono arrivati, hanno bombardato la città e sapete benissimo qual è stato l'esito tragico, soprattutto per la parte serba. Bene, possiamo procedere. Vediamo qualche immagine storica in modo da comprendere la natura della tradizione che è venuta a modellarsi attraverso l'influenza orientale. Quindi è uno stile che i turchi hanno portato fino alla Bosnia. vedete questa tipologia di piccoli insiemi urbani, vedete la tipologia degli edifici con le strutture di legno sui tetti e la pietra invece a terra. Qui abbiamo un'immagine un po' più turistica, ma che comunque ci mostra questo cuore islamico di Sarajevo. Ha in effetti un nome islamico, vedete che la morfologia è ben visibile, ci sono negozi. Tuttavia c'è una suddivisione chiara nel tessuto urbano fra la basciarcia, cioè la parte musulmana, e la parte austro-ungherese. C'è una sorta di punto d'incontro fra l'Oriente e l'Occidente. Sarajevo è proprio un croggiuolo di Est e Ovest. E non è stato che fino a tre anni fa che questa architettura post-bellica si è aperta e è diventata l'oggetto di interesse globale. Ma lo dico rapidamente, giusto per darvi un'idea, se qualcuno poi è interessato. Osservate questi temi iconografici che si sono sviluppati in Jugoslavia a celebrazione di eventi tragici, battaglie talvolta tragiche, talvolta con un epilogo vittorioso. Sono forme e monumenti che trovate in tutta la Jugoslavia ed è stata fatta una mostra dove rivestono un ruolo importante e i territori sono soprattutto montani, anche perché i territori montani sono prevalenti. Roberto, quanti minuti ho ancora a mia disposizione? Bene, bene. Sono partito dalla storia di Sarajevo, ma cerco di dare un contesto più ampio. Avrei sentito parlare di questo architetto, un architetto che è nato a Ljubljana che poi ha studiato a Vienna. Tutti gli architetti di Ljubljana sono andati a Vienna, anche a Venezia e qualcuno è arrivato anche a Milano, ma per dire che l'interesse principale era per i paesi più a nord. Questo Otto Vález ha lavorato a Praga fino agli anni 20 e poi è tornato in Slovenia e ha sviluppato una scuola locale a Ljubljana. E poi questo suo, diciamo, studente ha creato un linguaggio modernista sulla base dell'eredità del suo maestro e di Le Corbusier alla fine degli anni 30. È riuscito a intrecciare entrambi gli aspetti, entrambi gli stili con una fusione che è stata improntata a un modernismo critico. Perché è importante? Perché lo studente di Pletschnik che presenta questa, diciamo, delineazione chiara si ricollega anche a Shah Gabriel, questo architetto che poi è emigrato a Sarajevo, si è diplomato con Pletschnik, poi è andato a Parigi, ha frequentato la scuola, la facoltà artistica e qui vediamo la cultura improntata ai disegni e poi si è spostato in Italia ha studiato cultura classica, ha sviluppato uno stile originale e lo scorso anno c'è stata una nomina UNESCO. Grabrian ha fatto parte della prima generazione, si è spostato a Zagabria ma è stato influenzato da Parigi, da Perè, da Le Corbusier. Quindi l'impulso di Le Corbusier è stato importante. C'è una fusione tra Occidente e Oriente molto interessante, c'è un regionalismo critico che comunque si ricollega alla cultura globale, alla cultura planetaria da un lato e dall'altro a quella locale di ogni territorio. Quindi si sono seguiti gli studi di Le Corbusier che ha realizzato questo, il Voyage d'Orient è stato poi pubblicato, io ho trovato un facsimile, un libretto del suo Voyage all'Orient, poi ha viaggiato in Germania realizzando un altro libretto di studi come questo, poi si è spostato a Est, a Istanbul, anche qui troviamo dei disegni e qui abbiamo i principali monumenti, l'Acropoli, Sofia, eccetera. ma lui era molto interessato all'architettura vernacolare, la specifica morfologia di questo stile. Quindi Le Corbusier è rimasto affascinato e ha cercato di sviluppare dei temi che partissero da questa architettura orientale con uno schema dell'edificio che si apriva verso l'alto. Ha pubblicato, poi Grabrian ha pubblicato questo suo primo libro sull'architettura di Sarajevo in un contesto di architettura moderna. Lui ha cercato di fondere la tradizione e qui abbiamo un esempio, un'altra pubblicazione dello stesso architetto, quindi un ricercatore che poi ha frequentato la facoltà di architettura. Quindi diciamo che di partenza era più uno studioso, un teorico. La Macedonia, l'influenza della Macedonia è molto forte. Un bel libro nello spirito un po' di Le Corbusier che analizza il piano terra, sezioni delle facciate, degli insediamenti e anche questo organigramma più ampio sempre realizzato da Grabrian. Vedete la terra, la cultura e tutte le influenze della topografia, del clima, della tecnica, della religione, delle tradizioni che si convogliano nel tronco dell'albero e poi vedete invece le chiome che si aprono attraverso l'espressione dell'architettura di Chardacca, Pijic, Chalsia, eccetera. Uno studio dunque molto interessante. questo è un altro libro di disegni che ci mostra il modo in cui ha analizzato queste caratteristiche interessanti del piano terra, questa struttura aperta, questo cortile all'interno, queste pareti che chiudono la zona interna che riecheggia la morfologia dell'architettura islamica. e qui abbiamo alcune immagini dal suo libro. A sinistra questa architettura bosniaca centrale, questo tetto a tenda e poi a destra invece una tipologia più orientale. Procediamo rapidamente queste bellissime silhouette dei villaggi che si ritrovano ormai raramente purtroppo oggi a causa di una mancanza di politica stabile, di governo stabile, di un approccio organico all'architettura e alla cultura volte a mantenere la tradizione purtroppo non ci sono stati sviluppi conseguenziali a causa delle turbulenze delle guerre delle tensioni di cui avete sentito parlare sicuramente anche nell'ultimo mese le tensioni fra la Bosnia e il Kosovo sono tensioni che possono esplodere facilmente in assenza di un sostegno europeo i Balcani sono ancora lacerati fra l'Europa e l'orgoglio di diventare autonomi e di essere autonomi quindi la chiusura all'integrazione la Serbia ad esempio è fortemente divisa fra queste tendenze contrastanti fra da una parte l'europeizzazione e dall'altra le tendenze autonomiste c'è quindi una forte resistenza all'Europa soprattutto negli Stati Uniti ricorderete i bombardamenti degli anni 90 e c'è invece un andare verso la Russia che è da aiuti militari ed economici è una situazione molto delicata ma non voglio entrare nei dettagli e appesantirvi era però per dare degli elementi di contesto qui abbiamo altre immagini del suo libro vedete gli insediamenti il modo in cui crescono questi villaggi la sincronia fra il paesaggio i tetti i volumi sotto i volumi sopra i tetti l'articolazione delle coperture che è molto specifica e questo è quanto ancora troviamo lungo i fiumi la Bosnia ha ancora dei punti incantevoli ma in generale invece la situazione urbana è catastrofica dopo la guerra degli anni 90 rimangono ancora molti edifici danneggiati oppure sono state improvvisate delle costruzioni e qui abbiamo il compagno del precedente architetto Jura e Neidhart che arriva in Slovenia e facilita questa occidentalizzazione ma sempre mantenendo diciamo l'accompagnamento dell'architettura orientale lui era un architetto più orientato al progetto agli edifici a delle tipologie che riflettono un'impronta di Le Corbusier ma sempre con uno spirito orientale e questo forse è il suo edificio manifesto sulle montagne di Trebele c'è questo centro sciistico che ha un tetto quasi piatto di pietra e di legno con queste finestra questa finestratura orizzontale molto interessante qui abbiamo invece un edificio suburbano perché ha cercato anche di aggiungere degli elementi prefabbricati in un'ottica di architettura industriale in modo che la produzione potesse rimanere iugoslave negli anni 50 e 60 ma anche seguito e ha lavorato con Behrens a Berlino per poi lavorare con Le Corbusier successivamente e Le Corbusier ha giocato un role molto importante tre dei suoi studenti erano dalla Croazia l'urbanesimo riecheggiava questo plan libre questi grandi volumi come l'unità d'abitazione a Sarajevo c'era però l'aggiunta di elementi locali di texture locali di iconografia locale con un approccio che combina un linguaggio universalistico a elementi locali poi la realtà era più prosaica qui abbiamo un esempio di Sarajevo di un edificio pubblico con uno stile modernista ma senza nulla di speciale diciamo senza il mantenimento di questo carattere locale e veniamo adesso ad uno a un discepolo Sladko Uglien l'unico architetto bosniaco ma penso un architetto che sia stato in grado di sintetizzare la tradizione con ciò che ha appreso attraverso i suoi viaggi in Scandinavia in Finlandia la cultura di Albaldo che non era più quindi un'architettura disfunzionalista e cioè la forma che segue la funzione ma che si apriva invece a nuove caratteristiche Uglien che è ancora vivo ma anziano ha studiato questi roofscapes questi tetti che riflettono il paesaggio e ha lavorato soprattutto negli anni 70 negli anni 80 ha costruito anche delle belle chiese quindi ha progettato chiese ma anche ad esempio una moschea la sua espressione formale andava anche alla ricerca di volumi che seguissero il linguaggio formale tradizionale ma aggiungendo un impulso autonomo artistico personale che lo rappresentava molto qui vediamo gli anni 60 la moschea di Visoco la costruzione iniziata negli anni 60 ma poi fu interrotta perché gli abitanti hanno cominciato a dire ma questa non è una moschea e quindi ha dovuto aspettare dieci anni l'arrivo di un investitore che veniva dal lontano oriente dall'estremo oriente che trovò interessante la costruzione e quindi ricevette i fondi per poter continuare è un edificio molto ben integrato nella morfologia di questa piccola città della Bosnia centrale che si chiama Visoco e presenta gli antichi attributi di una moschea e allo stesso tempo si integra con l'atmosfera aperta e modernista questo è un hotello del Bregava in questo luogo montano e vedete che la tradizione qui viene rappresentata in modo un po' diverso il roofscape affonda le radici nella tradizione c'è molto legno e qui con l'hotel sopra a Sarajevo di Belacis prima dei giochi olimpici dell'84 perché fu il momento migliore in Bosnia perché tutte e tre le entità regionale insieme alla Croazia eccetera di religione musulmana c'erano dei matrimoni misti c'era integrazione all'epoca e anche questo edificio è molto interessante per l'epoca e proprio per rappresentare questo tipo di cultura mista vediamo i riflessi di un'architettura moderna ma anche della tradizione era un maestro nell'utilizzo del legno un maestro della costruzione ma sfortunatamente quasi tutti questi edifici furono distrutti nella guerra degli anni 90 quando i serbi senza alcuna esitazione durante l'occupazione demolirono questi bellissimi esempi ad esempio la Mikulich House questo grande tetto che abbiamo visto nell'architettura tradizionale e questi sbalzi fra i volumi in basso e l'apertura in alto e l'uso del legno che in qualche modo ci ricorda anche l'architettura giapponese vedete le angolature le fenestrature senza supporto eccetera io penso davvero un ottimo esempio che è stato elaborato nei più fini dettagli lui ha insegnato a Sarajevo è stato professore a Sarajevo ha avuto degli studenti ovviamente di cui vediamo alcuni esempi nei villaggi qui vedete anche l'influenza di Lloyd Wright Frank Lloyd Wright vedete le sue finestre questo è un qualcosa che ogni cultura architettonica dovrebbe rispettare ovunque un elemento locale e allo stesso tempo una dimensione universale moderna e credo che si riuscita a farlo anche in questi dettagli Roberto non so se abbiamo ancora tempo beh guarda proprio un minuto va bene allora questo è quello che potete leggere nell'articolo sono gli esempi che ha citato Roberto Roberto Loche di Zagabria che è lui stesso anche un alpinista ma anche un architetto e lavora con Ciambera Zagabria e queste sono montagne in Croazia non sono tante ma sopra il mare ne si possono vedere sono sull'Adriatico ci sono delle splendide montagne ancora intoccate delle bellissime risorse naturali nel suo articolo parla in particolare di queste cose dedicate molto sostenibili che fa con i suoi amici in montagna lungo i sentieri e c'è una ricostruzione degli antichi rifugi che una volta già esistevano alcuni più grandi che sono vengono ristrutturati ecco c'è l'idea di modernizzarli e dunque non è una grande architettura non sono certamente città nelle montagne sono soprattutto strade non asfaltate ma sono esempi di come definire la morfologia dell'architettura montana in relazione alla modernità un altro autore è Christich fotografa questa bellissima complementarietà di colori nelle montagne con i resti in contrasto di oggetti gli stetici sono delle steli di cimiteri e e vedete anche in questo caso dei rifugi il territorio è molto selvaggio ed è anche molto particolare molto bello è una zona vergine ha avuto delle conseguenze qua si è combattuta anche la guerra e quindi restano ancora delle mine bisogna fare molta attenzione ma sono segnalate quindi se si vuole andare si sa dove non andare Christich ci mostra anche alcune costruzioni tradizionali ma ha lavorato anche sull'urbanizzazione più recente grandi investitori sono arrivati e hanno cercato di costruire delle città in montagna questo ne è un esempio vicino a Gelashnica ed è probabilmente questo insediamento non sarà mai completato quindi però questa era l'idea degli investitori che hanno attuato dei progetti di speculazione con questi progetti è molto problematico la Croazia sta seguendo un po' la logica della concorrenza e sta cercando di seguire questa cultura dell'architettura in un'ottica però più etica in Bosnia e in Bosnia e in Bosnia più complessa qua vediamo degli esempi in cui gli architetti possono fare cose di questo genere la Gelashnica così per rispondere anche a dei trend globali anche con l'architettura di montagna però tendenzialmente sono finanziati da investitori molto danarosi soprattutto dai paesi scusi finisciamo minuti contatti e dobbiamo lasciare spazio agli altri autori grazie 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 scusi e tanto questa parte di architetture contemporanee è quella contenuta nel saggio che hai scritto quindi sicuramente potranno vederla sfogliando Arcalp i nostri ascoltatori ok grazie scusi grazie a te per l'intervento molto ricco e denso dalla storia alla contemporaneità ora c'è l'ultimo intervento che è quello di Yuhin Irase che è professore architetto giapponese attualmente docente alla Vaseda University è stato anche professore Arasaga University sempre in Giappone ed è fondatore di uno studio professionale con il quale realizza appunto in parallelo opere architettoniche chiedo alla insomma ai tecnici se possono lanciare il suo la sua registrazione avviso insomma coloro che partecipano a webinar che purtroppo come si dice il fuso orario non ci ha permesso di avere con noi Irase infatti in Giappone attualmente siamo in piena notte quindi ha gentilmente fatto una registrazione in cui racconta i suoi progetti i suoi lavori ci illustrerà alcune opere dell'architetto Yoshizaka che storicamente ha costruito nelle montagne giapponesi per poi raccontarci alcune sue opere più nel dettaglio grazie l'architettura nelle aree montane del Giappone forme determinate da fattori esterni dall'ambiente naturale io mi chiamo Yuin Hirase sono giapponese e vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di partecipare a Dark Alp io vorrei brevemente presentare un po' il contesto del mio intervento innanzitutto parto dalla mia presentazione io mi occupo prevalentemente della progettazione di edifici in Giappone mi occupo anche di formazione e di ricerca sul design dell'architettura presso l'università di Guaseda nel 2007 ho lavorato a Basilea in Svizzera con l'università di Basilea che ha un grande interesse alla collaborazione internazionale in particolare ho partecipato a un programma di collaborazione finanziato dal governo svizzero quest'oggi vorrei parlarvi del mio lavoro mi occupo di progetti che sono incentrati su quattro temi prevalenti che vedete qua non avrò il tempo di entrare nel dettaglio di ciascuno nel contesto di questa ricerca io mi occupo di ricerca sull'architettura di montagna nel contesto della mia ricerca sull'infrastruttura leggera sono quasi trent'anni che mi interesso e che sono affascinato dall'architettura costruita nelle aree montane e ho dunque condotto ricerche e analisi su questo tema soprattutto in Giappone i rifugi montani che si trovano in contesti naturali difficili spesso non hanno decorazioni questo a causa della natura rude dell'ambiente del contesto e questo consente alla forma naturale dello spazio di emergere come figura inevitabile c'è una bellezza in costruzioni così semplici e così solide e c'è una forza nell'architettura che nasce dal confronto con la natura così rude e difficile questa è la villa montana di Akuba il primo rifugio di montagna in Giappone è stato inaugurato nel 1905 ad un'altitudine di 2832 metri e il rifugio di montagna più grande in Giappone ha una capacità di 1200 persone oggi sulle alpi giapponesi ci sono più di 170 rifugi a causa delle stagioni delle piogge dei tifoni in Giappone che portano forti precipitazioni la maggior parte degli edifici tradizionalmente hanno dei tetti inclinati questa è sempre la villa di montagna di Akuba vedete che questa forma capana della cristiana di montagna è una forma naturale dovuta al clima l'esterno è molto semplice e poi ci sono delle pareti esterne di rosso vivace e questo contrasto di colore appunto si distingue rispetto al verde degli alberi c'è questo aspetto molto interessante nel mezzo della natura questo è un rifugio di montagna molto famoso in Giappone il rifugio di Karasawa progettato da un famoso architetto Takama Sayuzaka si trova ad un'altitudine di 2350 metri durante l'inverno le valanghe delle zone circostanti scorrono su questo rifugio ma sprofondando l'edificio nel terreno il danno causato dalle valanghe viene minimizzato il rifugio di Karasawa è circondato su due lati da una parete in pietra con un gabbione è fatto di filo di ferro intrecciato pieno di rocce questa parte questa parete non viene sprofondata e quindi l'aspetto generale è quello di un forte in pietra durante l'inverno che vedete ci sono tre edifici questa è un'immagine invernale gli edifici sono distribuiti in modo da ridurre la superficie che viene esposta nella direzione di arrivo della valanga e per questo motivo la valanga come dicevo passa sopra l'accumulo di neve che appunto si è accumulata e si trova sul tetto e pertanto questo impedisce che il rifugio venga distrutto la valanga letteralmente scorre sul tetto del rifugio anche questo è un progetto di Takama Saizizaka una villa sulla montagna Tateyama questo è un dormitorio statale che si trova sull'altopiano di Tateyama e in questo caso l'altitudine è 1940 metri la forma dell'edificio ha l'obiettivo di non ostruire il passaggio del vento e sembra essere ispirato dalla forma della montagna che sta dietro la dimensione generosa si distingue rispetto alla scala la dimensione della catena montuosa Tateyama qua vediamo un'immagine invernale ecco il tetto ha una forma molto semplice con pochissime minime irregolarità e questo per gestire il vento è arcato è molto lineare ed è progettato affinché la neve venga portata via anche questo è un progetto dello stesso architetto ed è un altro rifugio una struttura di ospitalità che si trova in una destinazione scistica la forma a noce elimina la necessità di rimuovere la neve il tetto verde emerge e si distingue su uno sfondo imbiancato di neve la neve si accumula sui tetti degli edifici circostanti ma invece da questo edificio vedete che la neve invece cade spontaneamente cade naturalmente vediamo gli interni al centro del piano della pianta esagonale troviamo la scala a chiocciola che consente di raggiungere direttamente ogni sala da ora vorrei parlare del mio progetto anche questo costruito in una zona di montagna montagna onta che ed è il centro dedicato ai visitatori ci sono due centri per visitatori che si trovano presso il sito della montagna ad un'altitudine di 2180 metri ai piedi del monte onta che e poi c'è un altro centro visitatori che si trova invece a 742 metri di altitudine presso il villaggio affinché i due centri per i visitatori diventino una struttura coordinata viene proposta un'architettura con il tetto rosso che diventa un'immagine di visibilità e che rimane impressa agli occhi dei visitatori allungando il tetto l'area montana crea un paesaggio che fa eco al scena al paesaggio delle montagne il monte onta che raggiunge un'altitudine di 3067 metri e lo vediamo appunto sullo sfondo del centro visitatori questo è il sito in montagna a 2180 metri e questo è il modello al momento del progetto di implementazione il modello il volume è 9 metri di larghezza per una lunghezza di 62 metri la scala principale adesso è in una nuova posizione pensando alla storia del passaggio che collegava i due ingressi del tempio che si trova in questa zona qua vediamo un'immagine del sito del cantiere e poi vediamo il progetto al suo completamento alla fine vediamo questo sito in inverno che è un resort sciistico e questo serve a evitare di ostruire il paesaggio l'edificio è stato costruito con un layout lungo e stretto che di nuovo si staglia sullo sfondo i muri esterni sono costituiti da dei gabbioni alti 2,5 metri progettati per una neve massima di altezza massima di 2 metri e mezzo vedete che abbiamo un'altezza sufficiente per arrivare a un'ongolatura di 60 gradi proprio per far fronte alla neve di di nuovo vediamo la scala che parte dal parcheggio e vediamo anche uno spazio di riposo di relax e qui siamo all'interno del centro visitatori lo spazio presenta la possibilità di mostre i visitatori possono appunto visitare la mostra e possono naturalmente godere la vista delle montagne le montagne vengono incorniciate da queste finestre che vedete qui in alto quindi c'è una connessione diretta con la natura e con il paesaggio nel corso dell'inverno nevica molto e vediamo la stazione montana qui vediamo i gabbioni e siamo arrivati a un'altezza della neve di due metri e mezzo e questo è un altro centro visitatori a 742 metri abbiamo un tetto simmetrico trapezoidale questo è il modello del disegno esecutivo c'è un'ottima continuità fra gli spazi interni ed esterni abbiamo un ampio spazio sulla sinistra e di nuovo una scala importante e qui vediamo due fasi diverse di costruzione e di completamento il tetto come dicevo è simmetrico e trapezoidale e un tetto che con la sua forma crea un senso di unità con il paesaggio qui 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 visuale è dalla parte opposta del fiume la scala ci dà accesso ad una incantevole visuale delle montagne e questo spazio dà la possibilità al visitatore di rilassarsi uno spazio di sette metri con vedete questi queste strutture in legno che riprendono la forma trapezoidale del tetto e siamo adesso a un altro progetto è la diga di Gokayama in effetti è una struttura la struttura vicino alla diga di Gokayama nella prefettura di Fukuoka è una diga imponente ci troviamo di fronte a forme ampie curve che riprendono la forma del terrapieno curvo della diga il parcheggio e la terrazza sul tetto si connettono organicamente creando una matrice continua fra il paesaggio e l'architettura ed ecco una pergola a sinistra c'è un caffè poi ci sono dei negozi e questa pergola invita lo sguardo ad andare verso il lago artificiale formato dalla diga i breeze solei sono fatti di legno naturale e sono stati modellati in modo da riflettere la catena montuosa e anche da diventare un nuovo simbolo dell'area di Gokayama e arriviamo all'ultimo progetto è il progetto che si chiama hut tent e corrisponde ad una a un piccolo rifugio di 2,5 per 3,5 metri che è stato progettato sia per sia per gli alpinisti che anche come edificio da usare per la manutenzione noi abbiamo progettato un sistema che richiede poco tempo per la costruzione e abbiamo usato nuovi materiali costruttivi abbiamo usato dei pannelli quadrati che possono essere trasportati dai pallet in legno che si usano in Giappone li abbiamo progettati specificamente perché possano essere installati in luoghi difficili da raggiungere dove è difficile costruire o dove è difficile il trasporto e mentre i materiali da costruzione in legno producono molti scarti quando vengono demoliti in questo caso possono essere utilizzati ad esempio come pallet nella logistica e questo dà la possibilità di ridurre drasticamente i rifiuti da smaltire era molto importante poter gestire l'acqua in questo caso e quindi abbiamo usato delle membrane di rivestimento in modo da proteggere le strutture dall'acqua si tratta di materiali impermeabili e poiché sono traslucide queste membrane diventano molto visibili la notte e irradiano una luce molto piacevole un po' come una lanterna inoltre queste membrane sono facili da installare in luoghi dove i trasporti sono particolarmente difficili in aree montane o su isole remote dove i costi di trasporto sarebbero molto elevati noi pensiamo che aumenterà la varietà di utilizzo di queste huts di queste tent ad esempio potranno essere utilizzate come rifugi di evacuazione per gli alpinisti oppure come rifugi temporane in caso di disastro naturale questo progetto ha fatto parte di un prototipo sviluppato nel quadro di un progetto di ricerca congiunto che era volto a proporre un'architettura mobile e innovativa altamente orientata al design e questo attraverso l'integrazione del know-how degli esperti che erano in grado di fare sperimentazione nel legname nello sviluppo di materiale da costruzione nello sviluppo di membrane di rivestimento nel branding e nel progetto architettonico grazie per la vostra attenzione riprendo riprendo la linea da da Courmayeur i tempi sono un po' ristretti io voglio rinnovare ringraziamento a tutti i relatori perché sono venuti spunti molto interessanti voglio anche dare un consiglio a tutti i partecipanti a questo incontro di sfogliare la rivista perché secondo me merita veramente non solo per la ricchezza dei contenuti che sono contenuti ma perché dà delle visioni delle aperture su realtà che per noi sono praticamente sconosciute e quindi credo che sia una lettura molto interessante al termine di questo viaggio di questa esplorazione passo la parola al direttore di Arcalp Antonio De Rossi per le conclusioni grazie Roberto buonasera a tutti veramente pochi minuti di parole visto che ci stiamo avviando alle due ore di insomma di diretta insomma per noi era veramente mi ricollego a quello che è stato detto prima e anche adesso da Roberto era molto importante fare un numero sulle altre montagne appunto e per una volta uscire dalle Alpi perché c'è sempre anche molto una sorta di autorappresentazione delle montagne alpine dove sono le montagne più belle le montagne più selvatiche le montagne più spopolate invece la realtà a partire dagli appennini attraverso le isole c'è anche un bellissimo saggio sul numero sulla sulla Sardegna interna sulle montagne della Sardegna interna passando poi come abbiamo visto dai Balcani al Giappone alle Americhe insomma offre una un panorama di questo di questo spazio d'alta quota crediamo davvero importante che sempre di più nel futuro anche a causa della traslazione verticale dei paesaggi che i cambiamenti climatici determineranno è molto importante per cui la montagna certo oggi va di moda va di moda molto di più di quanto è avvenuto nei decenni precedenti c'è un'attenzione indubbiamente molto forte e credo che questo vada a coniugarsi ovviamente anche questioni come i cambiamenti strutturali economici sociali e il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo per cui questi sono degli spazi di nuove opportunità e sono anche degli spazi di sicuramente sperimentazione di lavoratori di sperimentazione importanti per l'architettura per un'architettura che ovviamente deve essere altamente sostenibile e strettamente corredata come dire a una nuova visione dei modi con cui l'economia e la società vengono a correlarsi come dire con l'ambiente su questo mentre scorrono appunto le immagini anche degli altri articoli sulla rivista voglio ricordare Laurent Chappé Laurent Chappé grande progettista francese di stazioni integrate di architettura di montagna nell'inventore di Courchevel ma anche dietro alle visioni architettoniche progettuali di stazioni come Pila in Valle d'Aosso San Sicario in Piemonte che aveva appunto una grandissima attenzione per le montagne del mondo e quindi non solamente per il contesto alpino sapendone leggere certamente le tante differenze come abbiamo visto stasera ma anche le continuità questa rappresentazione che Laurent Chappé aveva di questa sorta di universo dell'alta quota che però era un universo in qualche modo collegato collegabile uno tutto insieme in qualche modo credo che sia la visione appunto che sta dietro a questo numero e anche appunto un certo modo a cui siamo obbligati io credo di ragionare per affrontare le difficilissime e anche tragiche probabili trasformazioni che avremo nei prossimi decenni e su questo bisogna arrivare preparati e avere come dire una capacità una visione culturale di saper progettare in questi luoghi che richiede appunto una lunga preparazione una preparazione specifica che non è banalmente tecnica ma riguarda tanti aspetti ed è appunto questa articolazione di visioni di punti di vista sulle montagne del mondo che abbiamo provato a dare in questo numero ringrazio ovviamente tutte le persone che hanno partecipato stasera la professoressa Piccone il professor Rostan e ringrazio ovviamente la fondazione Cormaier e l'ordine degli architetti della Valle d'Aosta con cui appunto abbiamo oramai un cammino da lungo tempo e ringrazio ovviamente le tante persone che stasera hanno seguito appunto la presentazione del numero 10 della rivista Arcalp che ricordo si trova in open access su il sito www.arcalp.it ma è acquistabile anche direttamente dal sito l'edizione cartacea e quindi oggi si può anche abbonare grazie a tutti e buona serata